Riconsegnato alla città di Trani il campo sportivo di Via Gisotti dopo un periodo di recupero e riqualificazione tornerà così ad essere un luogo di aggregazione per tanti giovani. Noi abbiamo pensato di portare avanti questo discorso innanzitutto come appassionati di sport. Perché è vero che la Turreno Proloco si è resa parte attiva, però devo dire che c'è stato un bel gruppo di amici che mi hanno dato manforte perché devo dire che non è stato affatto semplice poi concludere tutta la sistemazione del campo. È necessario stabilire, l'abbiamo fatto con un regolamento, le modalità di accesso, i tempi e soprattutto anche gli orari di gioco perché una delle grosse problematiche è che il campo, essendo aperto, quindi creava anche notevole fastidio al vicinato, non c'erano orari, eccetera. Adesso è tutto regolamentato, ci saranno dei badge elettronici di accesso, ancora non sono attivi ma parliamo di qualche giorno per concludere anche questa operazione e potranno essere ritirati, poi daremo maggiori informazioni o presso la Proloco, qui c'è un bar che ci darà manforte. Basket principalmente, in realtà il campo è predisposto anche per il gioco della pallavolo, è solo che qui c'è un'attrezzatura un po' particolare da montare, quindi vedremo di far fronte a eventuali esigenze più che altro magari di società sportive già attrezzate che hanno le attrezzature idonee. Non deve essere inteso questo come un luogo di, così, di, non voglio usare un termine di abbandono di bambini, assolutamente no, però i genitori devono essere consapevoli del fatto che i bambini sono all'interno e quindi ci vorranno delle autorizzazioni specifiche per consentire ai ragazzi di entrare. Siamo partiti con la gestione facendo un bando di gara, è andata male, non partecipò nessuno, partecipò soltanto un'azienda, un'impresa, tra le mie notevoli perplessità perché non era un'associazione sportiva, non era un gruppo di giovani appassionati, non era niente. Devo dire che con la formula invece dei beni condivisi, che è tanto fortemente voluta rispetto alla quale stiamo vedendo oggi i primi risultati, tra un po' vedremo anche il Tempio di Giano, oggi vediamo questa, questa formula ha funzionato, ha funzionato perché invece un gruppo di appassionati, lasciatemelo dire, ha pensato di gestirla nel migliore dei modi, esattamente come l'avevamo pensata noi, con un sistema peraltro anche automatizzato, quindi ancora più, diciamo così, moderno, lasciatemi passare il termine, video sorvegliato, con un regolamento ben preciso, quindi assolutamente andando incontro a quello che era l'idea dell'amministrazione, motivo per cui con questa formula dei beni condivisi abbiamo assolutamente sposato il progetto, in questo con l'aiuto anche di, lasciatemelo dire anche qui, giovani consiglieri comunali dediti allo sport. Quindi oggi è un campo che torna nella disponibilità della città, spero che se ne faccio buon uso, è chiaro che considerando che c'è la videosorveglianza, faccio presente a tutti i ragazzi di stare attenti perché poi non saremo severi, saremo di più.